Il nuovo comandante del Corpo di Polizia Locale di Agropoli è Sergio Cauceia, detto Maurizio, 54 anni, laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza, per oltre un decennio responsabile del Nucleo di Polizia Giudiziaria, Tutela, Territorio ed Ambiente della Polizia Locale di Agropoli, nonché responsabile ufficio contenzioso amministrativo e giurisdizionale del Comando. Negli ultimi due anni è ricoperto l'incarico di Vice Comandante della Polizia Locale e sostituto funzionario della posizione organizzativa dal 1 settembre 2020 e comandante della Polizia Locale del Comune di Agropoli. Al nuovo comandante giunge il saluto e l'augurio di buon lavoro da parte della Segreteria Provinciale della FPCGL di Salerno. Uomo competente dallo straordinario spessore umano e professionale, ha già dimostrato di avere le carte in regola e la determinazione giusta per ricoprire al meglio il prestigioso ruolo che è stato chiamato a svolgere. La sua piena conoscenza della città e delle sue dinamiche sarà requisito importante per il lavoro del Comando nel garantire ancora di più vicinanza, attenzione e aiuto alla cittadinanza. Posso solo dire che assumere l'incarico di funzionario responsabile della posizione municipale è un incarico di grossa responsabilità per una città che ha i suoi problemi, ma diciamo che abbiamo cercato negli ultimi due anni di dare un'inversione di tendenza, un recupero forte di produttività, di credibilità. Il lavoro è ancora lungo da fare, ma lo stimolo a fare bene è questo. Carmine ha lasciato un sulco importante e non possiamo fare altro che continuare in questa scia positiva con spalleggiati affiancati dalla volontà amministrativa di fare bene.